E qui veniamo a un altro saggio, però siamo in Italia. Daniele Morgera, che è un giornalista, scrive, li chiamavano i Magnifici Sette. Sono sette personalità importanti della politica e della cultura irpina. Parliamo di Ciriaco De Micta, Nicola Mancino, Gerardo Bianco e altri, che hanno segnato, scritto delle pagine importanti dagli anni 60 e 80. E allora Morgera racconta la loro storia partendo dai loro paesi di origine che si trovano tutti in Irpinia. Ricordiamo che De Micta è stato presidente del Consiglio, segretario della DC e proprio quest'anno sono gli 80 anni dalla fondazione della democrazia cristiana.